Un dono alla città di Latina, ma che l'arte che hanno messo, per far vedere alla città queste opere d'arti in pochissime ore, hanno fatto delle opere splendide che dimostrano che il made in Italy, in questo caso, volgarmente detto la cucchiara, funziona alla grandissima. Opere che saranno donate alla città di Latina, ne hanno realizzate dieci, farò la proposta al sindaco di poterne installare in ogni singolo borgo, ne mancano tre per completare l'opera, speriamo che si mettono ancora all'opera per denunciare altri tre. No, la mia è stata comunque sia una battuta, non troppo, perché me ne farò carico direttamente a parlare con il sindaco che dovranno essere posizionate, quindi potrebbe essere una stupenda idea dotarne dei borghi di queste panchine, magari uno in ogni borgo e una messa in piazza del popolo che simboleggiano questa splendida giornata che associata a quella di ieri, con la sicurezza del lavoro, che vado a ripetere non è mai troppa e noi come amministratori anche dovremmo fare del nostro, simboleggia questi due giorni splendidi nella città di Latina.